ben trovati davide il critico inter bologna 1 a 2 1 a 2 e io quasi a natale sono quarto ai quarti quarto ai quarti e ho cacciato fuori l'inter ho cacciato fuori l'inter dalla coppa italia perché li ho buttati fuori io stasera ho cacciato fuori dalla coppa italia la squadra che qualche mese fa era istambul a far la finale di champions ho cacciato fuori dalla coppa italia quella che ad oggi è la candidata per vincere il campionato ho cacciato fuori la squadra più forte della serie a e come l'ho fatto presentandomi a san siro con un allenatore fortissimo un gruppo fortissimo e una formazione iniziale che a me personalmente aveva lasciato diverse perplessità perché l'inter comunque sia seppur giochi con le riserve davanti a quel centro avanti marco arnauto che si non starà dimostrando tantissimo però fino a qualche mese fa era il mio caposaldo nel bologna era il mio giocatore più forte nel mio bologna ce l'hanno loro ed è la riserva quindi se tutte le riserve fossero il mio giocatore migliore dell'anno prima ecco già facciamo capire il livello di difficoltà che io dovevo affrontare stasera come ho affrontato l'inter dall'inizio con urbanski con fabbie con vanoidonk senza posch senza zirze titolare senza il buon calafiore titolare senza skurupski gioca ravaglia ci arriviamo ci arriviamo a parlare anche di fede ci arriviamo in mezzo al campo non c'è il freuler che ha fatto impazzire la roma ma c'è ebisher sugli esterni rimaniamo orfani di orsolini e carson qualcuno se lo dimentica tiago merlino sta giocando senza carson e senza orsolini quindi con solo ndoie e se le makers come esterni che oggi fa una gara clamorosa clamorosa ci presentiamo così a san siro contro quella corazzata e li buttiamo fuori li buttiamo fuori primo tempo si in difficoltà l'intera diverse occasioni ma noi siamo solidi siamo solidi siamo squadra soffriamo tutti insieme ci si vede poco in attacco sì è vero nel secondo tempo la musica non cambia è sempre l'intera ad avere più occasioni di noi e vorrei vedere loro l'autaro l'hanno avuto dall'inizio e ad oggi è il miglior centravanti della serie a sicuramente anche uno dei migliori in europa ed è lo stesso attaccante però che viene ipnotizzato dal nostro secondo portiere perché ravaglia non solo fa delle parate magnifiche salva risultato come con la roma ma ti para il rigore ti para il rigore all'autaro martinez ravaglia federico ravaglia para il rigore all'autaro martinez e io ho un portiere che vede poco il campo che ha avuto anche delle esperienze sfortunate in prestito oggi voglio fare un grosso applauso perché per un portiere giocare ogni tanto e fare il secondo e dire presente in questo modo non è facile bravo 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 fede e bravo anche a tiago merlino perché chiunque stai mettendo in campo sta giocando bene e questo è anche sicuramente merito di una mentalità che hai fatto entrare in tutti i nostri ragazzi perché urbanski sì qualche volta in affanno ma porta a casa sicuramente la sufficienza corazza sì provoca il rigore sicuramente loro attaccano più sulla sua fascia ma alla fine dà tutto e il 100% di sé in mezzo al campo siamo solidi con l'assenza di ferguson di freuler di moro dall'inizio quindi ragazzi parliamo comunque di un bologna rimaneggiato nel supplementare va in svantaggio e io sono sincero con voi quando siamo andati in svantaggio per 1 a 0 col gol di augusto ho detto alla partita è finita mi sbagliavo mi sbagliavo e da bordo campo vedi tante cose che di solito non vedi non vedi zirze che col giubbotto aiuta e la zuzì a mettersi la maglietta lo veste quasi tanti piccoli segnali la stretta di mano tra tiago motta e zirze come a dire questa la vinciamo noi tanti 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 segnali tanti campanelli che ti fanno capire che questo non è un insieme di giocatori questa è un'unica macchina assemblata per andare in una direzione ben precisa con un obiettivo e uno scopo ben chiaro nella testa di tutti nella testa di tutti secondo tempo supplementare poesia poesia zirze fa un tacco fa un tacco ragazzi fa un tacco da orgasmo tiene in piedi un'azione un calcio d'angolo destinato a concludersi nel nulla facendo un assist di tacco a bokema che prontissimo fa gol quella giocata zirze è un qualcosa di strepitoso da grandissimo giocatore e noi che guardiamo il bologna ne abbiamo già viste altre giocate così chi invece è abituato a vedere solo i big match stasera ha aperto ancora di più gli occhi su uno dei giocatori più forti di questo campionato perché anche nel secondo gol c'è il suo zampino e ndoie che ha dato meno di tutti l'impressione di poter far gol ma non stasera da quando è arrivata bologna fa gol fa il gol decisivo e l'immagine che mostra tiago merlino in scivolata davanti a ndoie è un qualcosa di poetico da tifoso del bologna una roba del genere non l'ho mai vissuta ho quasi 30 anni io questa roba qua non l'ho mai vissuta posso dirvi che a fine gara ero un mix tra gioia incredulità e forse anche un pizzico di commozione perché c'è da essere orgogliosi nel vedere dei ragazzi sudare così la tua maglietta e far divertire così tanto la propria gente quindi sono orgoglioso contentissimo e questa serata probabilmente non me la dimenticherò mai come non se la dimenticherà tutto settore ospiti che dall'inizio alla fine ha cantato lassù nel terzo anello si sentiva sicuramente meno rispetto ai 70.000 interisti ma si sentiva e vi assicuro che alla fine si sentivano solo loro ragazzi è stata una serata indimenticabile forza bologna sempre grazie tiago motta grazie gruppo grazie bologna perché quest'anno stiamo vivendo cose che io personalmente non ho mai vissuto ti ricordo di seguire il canale mette mi piace al video ed andare su instagram a seguire la pagina davide il critico forza bologna sono ormai le 3 40 buonanotte a tutti un abbraccio